Ehi Fastweb, cosa vuoi? Perché ti chiami Fast se sei lento? E te perché invece ti chiami Voda invece che Merdafon? Figlio di pu... Lo sapete che sono l'imperatrice indiscussa! Ma se con quello che costa dovresti regalarmi telefono, pc e lavarmi pure il sedere? Ha parlato lo Youkinit dei gestori! In che senso? Beh che spegni una sega e mangi da schifo! Raga! Oh! Oh mi sentite? Ma perché ho sempre zero tacche? Ehi! Oh! Qualcuno mi presta l'hotspot? Porca troppo!